3 dicembre 1938. Muore e suicida a Milano Antonia Pozzi, poetessa e scrittrice 26enne, prima crepuscolare e quindi ermetica. Padre avvocato e madre nobile, si laurea in filologia e frequenta gli ambienti culturali milanesi. Amante della natura, ha la passione della fotografia e dell'escursionismo. Di animo sensibile, è molto scossa per le delusioni amorose e per le leggi razziali del 1938 che colpiscono molti suoi amici. Quasi tutte le sue opere sono pubblicate costume. Ricordiamo Parole, una raccolta di 300 poesie, diari e altri scritti, ma anche la raccolta di foto Nelle immagini l'anima, antologia fotografica.